Ciao a tutti i ragazzi Sono insieme Come ti chiami? Che sei fratello? Fladio Cioè mi chiamo Fladio Fladio Stiamo rischiando il ban su Fortnite Perché stiamo facendo team Con dei tizi a coppia Stiamo dimando Oh si sono divisi Eh si lo so Io sto secondo a questo qua È scomparso l'altro Ah no Cosa? Però se si sono divisi capito? No però io lo sai che aspetterei? Eh si la fine Eh se ce la facciamo La fine Noi due contro noi due Cosa almeno ovviamente cazzeggeremo Eh si E poi l'ammazziamo Eh si tanto ora c'ho quattro bombe e ballerine Dov'è? Dov'è? Ah no tipo di scrive Ah eccoli Eccoli La base di zoni Ce l'hai po' di colpire il pompa? Eh no ne ho solo tre Uh pompa nua leggendaria Cioè volevo dire pompa leggendaria Eh però ne ho solo due Allora aspetta Dov'è solo? Ne ho due colpi del pompa Ah mannaccia Aspetta Aspetta Ah ok gli richiedi Uh No perché l'ha usata sto coglione? Vabbè non fa niente Dove cazzo è andata? Ah eccolo Seguimi che io lo tengo in vista No però quanto è figo di Mario Eh si vero Dove cazzo è andata? E' sceso completamente quello Uh Stiamo combattendo qua Cavolo Uh no 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 Le ho uccisi No Non ci voglio prendere No C'è sta un ben di dio qua però Cioè non ci voglio prendere No neanche io Tutto colpo di questo cazzo di pazzi caviola di merda No vabbè ma dai Volevo che finivano bellezza Volevo ucciderli volevo ucciderli Oh però mi stanno a guardare Anche una a me No No non mi sta a guardare più No dai Ci sei rimasto male Anch'io Ma a me Oh altra gente Altra gente Ah Minchia No Stavo qua da me Dai ci sei rimasto male Stavo pure in 14 stavamo Ciao No bro 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 Vieni bro sta qua da me bro bro ti prego Ucciso Vieni bro 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 bro